Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. L'11 gennaio 2023, quindi l'11 gennaio di quest'anno, ho pubblicato sul canale un video incentrato sul caso di Claudio Mandia, che ha spinto molti di voi a esprimere le proprie sensazioni o considerazioni a riguardo. Prima di parlare di altri fatti che sono emersi da questa terribile storia, la ripercorro brevemente anche per chi non la conosce ancora. Claudio abita a Battipaglia ed è un ragazzo entusiasta, curioso, ha in tasca la voglia di scoprire il mondo. Quando gli si presenta l'occasione di andare a studiare a New York, reagisce con gioia e impazienza. Quella è sempre stata la città dei suoi sogni, ma ora potrà viverci nella realtà. Così, ad agosto 2020, dopo essersi diplomato al liceo scientifico, Claudio parte per la sua avventura, fino a raggiungere il campus della EF Academy. Nei primi tempi lo studente si trova bene, è a suo agio in quell'ambiente e frequenta con piacere i nuovi compagni. Ma soprattutto Claudio impiega il suo tempo studiando. E tanto, perché diplomarsi in quel college gli permetterà di accedere alle più prestigiose università di tutto il mondo. Nell'estate del 2021 Claudio torna a casa felice, descrive positivamente la sua esperienza a New York, racconta delle tante conoscenze fatte, così i suoi genitori si convincono a iscrivere anche la sorella Martina alla EF Academy. Dunque, quando inizia il nuovo anno, questa volta Claudio non parte da solo. Lui e Martina tornano di nuovo in Italia durante le vacanze di Natale per stare con la famiglia. Purtroppo, il 30 dicembre risultano tutti positivi al Covid. A causa di questo imprevisto, Claudio non può rientrare a scuola come di programma, ossia per il 4 gennaio. Può ripartire soltanto il 25, anche se le lezioni sono già iniziate da circa 20 giorni. Claudio si preoccupa parecchio, proprio perché è in ritardo con gli studi. Ce la mette davvero tutta per recuperare, tuttavia non riesce a stare al passo. Così durante un test di matematica cerca di copiare, ma lo scoprono. L'amministrazione del college decide drasticamente di espellerlo e, in attesa che i genitori di Claudio vengano a prenderlo, il ragazzo finisce in isolamento. Claudio, per punizione, viene confinato per diversi giorni in una stanzetta tutta bianca, asettica. È lontano dai compagni, dalla sorella e dalle attività del college. Viene trattato, permettetemi di dirlo, questa è una mia opinione, come un criminale. I pasti gli vengono lasciati fuori dalla porta e, come se non bastasse, il terzo giorno si dimenticano anche di portargli da mangiare. Claudio, il quarto giorno, compie il tragico gesto. I suoi genitori, Elisabetta e Mauro, vengono informati della terribile notizia una volta arrivati a New York e la recepiscono straziati e sconvolti. Claudio avrebbe dovuto compiere il traguardo dei 18 anni il giorno dopo e, tutto sommato, era un ragazzo solare, felice, gioioso. La polizia scorta i coniugi mandia fino alla EF Academy perché devono recuperare Martina. Purtroppo, però, non viene loro permesso di accedere al campus. Un responsabile va a prendere Martina e la spinge verso i suoi genitori. Sono obbligati a comunicarle in macchina che suo fratello non c'è più. A fronte di trattamenti ingiustificati, brutali e destabilizzanti riservati a Claudio, il padre e la madre denunciano la EF Academy di New York e chi al suo interno aveva la responsabilità di prendersi cura del figlio. Il ragazzo aveva raggiunto la grande mela con l'obiettivo di imparare e di crescere, non certo per incontrare la propria fine, denigrato proprio nel luogo dove era stato affidato, credendo che fosse esemplare e sicuro. La polizia distrettuale indagando appura che Claudio era rimasto per tre giorni in isolamento, in un'ala disabitata. Lì era stato relegato soltanto un altro ragazzo, anche lui espulso. Arriviamo ai primi di novembre, quando la procura distrettuale conclude che non ci sono prove sufficienti per perseguire penalmente la EF Academy e i suoi responsabili. Questo però non ferma assolutamente la causa dei genitori di Claudio contro il college e il loro avvocato americano dichiara. Come i fatti dimostreranno al processo, l'insensibile disprezzo dell'Accademia per la sicurezza di Claudio ha direttamente causato la sua morte. Il 12 gennaio 2023 i genitori del ragazzo si fanno ancora sentire. Chiedono a gran voce che l'istituto risponda per i comportamenti adottati. La EF Academy, dopo la querela della famiglia di Claudio, ha chiesto di trasferire il procedimento giudiziario al tribunale di Zurigo. Si è appellata a una clausola contrattuale relativa all'iscrizione di Claudio, secondo cui, in caso di controversie, il foro competente sarebbe stato quello svizzero. Ma l'avvocato dei Mandia ha chiesto al tribunale di New York di respingere l'istanza dell'istituto. Poi, poco tempo dopo, ecco che emergono altre testimonianze, a dir poco allarmanti. Ma innanzitutto rispondiamo a una domanda fondamentale. Cos'è la EF Academy? È una società internazionale specializzata in formazione linguistica, viaggi studio, corsi di laurea e scambi culturali. L'azienda è privata ed è di proprietà di una famiglia svedese. EF, dunque, possiede ramificazioni e scuole in tutto il mondo, offrendo una scelta ampia. Si può decidere di partire per una vacanza studio di poche settimane, oppure frequentare una scuola pubblica all'estero per un anno, ospitati in famiglia, o ancora concludere gli studi superiori in un'academy. La retta richiesta per conseguire il prestigioso diploma IB, ossia baccellierato internazionale, e che apre le porte delle università più blasonate, è di 60.000 dollari. Conseguire questo diploma era proprio l'obiettivo di Claudio. A partire dal 2018, l'AEF conta circa 52.000 dipendenti impiegati in 116 paesi. Tanti sono i ragazzi come Claudio, partiti con l'animo pieno di speranza, buoni propositi, fiducia nella scuola e nel proprio futuro. Quanti di loro ne saranno rimasti delusi? Le nuove informazioni e testimonianze a cui ho accennato prima sono emerse grazie alla trasmissione televisiva Chi l'ha visto? Che ha affrontato il caso e grazie ai genitori di Claudio, i quali hanno chiesto a gran voce di parlare e denunciare nel caso in cui qualche altro studente avesse sperimentato una brutta esperienza con EF. Elisabetta e Mauro lottano perché questi fatti insensati e insensibili non accadano più. Non soltanto per amore di Claudio, ma per tutelare ogni altra giovane vita. A scrivere le proprie esperienze a Chi l'ha visto sono stati davvero in tanti. Ero certa che la vicenda di Claudio fosse qualcosa di troppo grave per poterla sommergere. L'ho espresso chiaramente nel mio video precedente. E infatti avevo ragione. Basta visualizzare le pagine social della EF Academy per leggere l'eclatante commento che risalta sotto i vari post. Giustizia per Claudio Mandia. Questa che state vedendo è la pagina Instagram del college. Sottolineo che invece ora nello specifico state guardando la pagina Facebook italiana dell'Accademia. Inizialmente l'amministrazione della scuola ha provato a rispondere con commenti tutti identici, dei copie in colla che attualmente non sono neanche più disponibili. Una parte importante del commento copiato e pubblicato più volte è la frase che recita. La sicurezza della nostra comunità scolastica è sempre la nostra massima priorità. Ricordatevi bene queste parole perché saranno importanti. E in ogni caso, visto quanto accaduto a Claudio, suona piuttosto irritante, no? Chi ha letto i commenti si è indignato e ha commentato a sua volta. Così la EF ha ritenuto più saggio censurare il tutto. Ha eliminato i messaggi o limitato i commenti ai vari post. Probabilmente i membri del college speravano che il polverone iniziasse a dissolversi, che la gente dimenticasse. Ma non sono riusciti a silenziare il coro di sdegno che reclama giustizia. Il web mi sembra particolarmente incazzato e io non posso dargli torto. La prima storia di denuncia che voglio raccontarvi è quella di Elisa e della sua mamma, Enza. Enza ha pagato un corso di studio all'Accademia consapevole che sua figlia sarebbe andata da una famiglia ospitante. Tenete conto che la EF precisa anche. La sicurezza e il benessere della nostra comunità scolastica e dei nostri studenti sono sempre la massima priorità. EF non tolera abusi intimi, molestie o violenze di alcun tipo. E mi viene da dire, ci mancherebbe. I nostri programmi operano secondo numerosi protocolli. Ve lo ripeto, fissate nella mente queste frasi. Sono importanti per quello che vi sto per raccontare. Elisa, all'età di 16 anni, aderisce a un corso all'estero di EF, dalla durata di un anno e dal costo di 20.000 euro. La ragazza vuole andare negli Stati Uniti, quindi EF trova per lei una famiglia a West Columbia, un piccolo centro abitato a circa un'ora da Houston, in Texas. Appena arriva dalla famiglia ospitante, la coppia litiga. Il marito se ne va di casa e la moglie ha una crisi depressiva. La donna non esce dalla sua stanza per giorni, quindi Elisa si ritrova a doversi occupare di se stessa e della casa da sola. Cucina e si prende cura di un'altra ragazzina che ha aderito al suo stesso programma, la quale viene dalla Germania ed è anche più piccola di lei. Elisa pulisce, pensa ai cani della famiglia e prepara pure da mangiare per la sua mamma ospitante. La donna però, a distanza di due settimane, si rende conto che non può proseguire così, quindi prende la drastica decisione di cacciare Elisa di casa. Le mette i vestiti e i suoi effetti personali in dei sacchi neri. La ragazza avvilita le spiega che all'estero sta usando una sim familiare, ma la donna la scollega. Quindi Elisa, che è minorenne, vorrei ricordarlo, si ritrova per strada di sera in un paese oltreoceano senza neanche un cellulare funzionante. Sua madre Enza in Italia si dispera perché non sa cosa le sia successo. Passano quattro lunghi giorni senza che Enza abbia notizie di sua figlia. La donna è spaventata e teme il peggio. Elisa chiaramente non sparisce volutamente per giorni. In realtà deve riuscire a entrare in possesso di una nuova sim e ci riesce dopo quattro giorni. Elisa comunque, per fortuna, sceglie di rivolgersi alla sua referente dell'Accademia, che abita lì vicino. I referenti di EF Academy sono coloro che devono occuparsi di trovare un nuovo alloggio agli studenti nel caso in cui si presenti qualche problematica, piccola o grande che sia. Elisa dunque va a casa della sua referente con la ragazza più piccola e, insomma, le spiega la situazione. La referente quindi che cosa fa? Le risponde che per qualche giorno le due ragazze possono rimanere da lei in attesa di individuare un'altra famiglia. Elisa quindi si ritrova a dormire in una stanza piccolissima, mentre l'altra ragazza sul divano. Sono circondate dalla sporcizia vicino al letto di Elisa e pieno di escrementi del cane della sua referente. E io mi chiedo, ma perché questa gente non pulisce casa sua? Santo cielo! Anche la referente decide di non rispettare gli impegni presi e dice alle ragazze di andare a scuola e di cercare in autonomia un'altra famiglia chiedendo aiuto ai compagni, altrimenti saranno costrette a tornare a casa. Ma questo è assurdo! Elisa è negli Stati Uniti da un paio di settimane e sua madre ha pagato ben 20.000 euro per farle vivere questa esperienza. Gli amici di Elisa a questo punto provano a darle una mano per evitare che debba rientrare in Italia così presto. Le scattano una foto con la scritta cercasi casa e la pubblicano in vari gruppi. Infine, un amico americano di Elisa le dice che la sua ragazza può ospitarla perché a casa ha una stanza in più. Dunque Elisa inizia a dialogare con questa ragazza che, a dirla tutta, neanche conosce, quindi è anche un po' in imbarazzo. Questa ragazza ha una famiglia ok, composta dai suoi genitori e due fratelli. La referente di Elisa ricompare addirittura per fare un controllo dell'ambiente e sembra tutto perfetto. E, effettivamente, la pensa così anche Elisa per le prime due settimane. Poi, però, le cose cambiano. L'immagine della famiglia perfetta inizia a sgretolarsi. La casa è sempre più sporca. L'unica camera pulita è quella di Elisa. Ma perché se la rassetta da sola, chiaramente? Inoltre, Elisa scopre di un problema molto grave. La mamma ospitante beve parecchio, così tanto da svenire. Va in coma etilico. La ragazza deve occuparsi anche di lei, chiamare il 911, perché i figli piccoli della donna, che non superano i dieci anni di età, quando la vedono ridotta in quelle condizioni, non capiscono, quindi si spaventano e piangono disperati. Enza, come detto, aveva pagato 20.000 euro per mandare sua figlia negli Stati Uniti e farle vivere un'esperienza di arricchimento in sicurezza. Ma la ragazza si ritrova ad affrontare situazioni critiche che, chiariamo, non le competono. Tra l'altro, senza nessun appoggio. Come se fosse partita da sola all'avventura con lo zaino in spalla. Inoltre, Elisa racconta un altro fatto a dir poco inquietante. Infatti, la sua famiglia ospitante ha un cane che, una sera, finisce nel cortile del vicino. Lui si rifiuta di restituirlo ai padroni e lo trattiene. Così il padre ospitante rientra in casa, prende una pistola, esce di nuovo e inizia a sparare verso il vicino per intimidirlo. Siccome questo fatto accade di sera, Elisa non ha idea di cosa stia succedendo. Mentre sta nella sua camera, all'improvviso sente dei colpi di pistola. Allarmata, quindi, chiama subito il numero delle emergenze che EF dà agli studenti prima di partire. Eppure, guardate un po', non risponde nessuno, così chiama sua madre, terrorizzata. Nonostante lo spavento e i pericoli, Elisa, pur di non rimettersi in cerca dell'ennesima famiglia che la ospiti, decide di rimanere in quella casa. Ma, dopo poco, si ripete quanto accaduto con la prima famiglia ospitante. È la signora che la caccia di casa. Elisa, questa volta, finisce nell'abitazione di un'altra referente EF. Dorme su un materassino, dentro una stanza minuscola. Poi, probabilmente, qualcuno ha guardato giù. Per fortuna, grazie a un'amica, viene accolta da una terza famiglia, dove finalmente si trova bene. Tuttavia, prima di raggiungere questo nuovo nucleo, la referente minaccia Elisa, dicendole che, se avesse parlato male della famiglia ospitante precedente, l'avrebbe rimandata in Italia per poi denunciarla. La domanda che sorge spontanea è, per cosa diavolo pagano le famiglie, se poi questo è il trattamento che viene riservato ai loro figli, per di più minorenni? Enza, effettivamente, conclude dicendo che, se avessi mandato Elisa a studiare all'estero come ragazza alla pari, avrebbe speso molto meno e, probabilmente, le sarebbe andata pure meglio. Vi faccio presente che le testimonianze dei ragazzi che hanno avuto problemi, grandi o piccole, con le famiglie ospitanti, sono veramente molte. Adesso proseguiamo con la storia di Michela, che decide di partire con EF per Città del Capo, la capitale del Sudafrica. Michela, quindi, va in casa di una famiglia sudafricana, ma, dopo un paio di giorni, chiede di cambiare alloggio, perché l'abitazione si trova a mezz'ora dalla scuola e, per di più, è abbastanza fatiscente. La pioggia si infiltra in casa, inoltre la famiglia fa cose poco legali, come coltivare delle piante di sostanza leggera. Quando Michela ha provato a contattare EF Italia, inizialmente nessuno le ha risposto tanto per cambiare, ma poi è finalmente riuscita ad avere un contatto. Michela, dunque, spiega il suo problema e chiede di cambiare famiglia, ma le viene risposto di parlare direttamente con gli assistenti della scuola. Questi le dicono che non c'è possibilità di cambiare famiglia. Da questo momento in poi Michela perde ogni contatto con EF Italia e scopre pure di avere dei compagni positivi al Covid, i quali vengono cacciati dal residence con una chiamata. In pratica, anche loro devono trovare una soluzione da soli. Questi ragazzi non vogliono la luna. Giustamente vogliono solo ricevere l'assistenza di un medico e chiamano direttamente la scuola in loco, ma il dottore non arriva. A questo punto passano cinque giorni e un amico italiano di Michela la chiama dicendo che ha una tosse molto forte e necessita subito il consulto di un medico, ma EF non contatta nessuno. Così il ragazzo ormai disperato chiede a Michela di andare a scuola per esporre la situazione al direttore. Il giorno seguente Michela va a scuola e fa presente il problema. Chi di dovere la ringrazia per l'avviso e promette di chiamare immediatamente un medico che tuttavia, indovinate, ancora non arriva. Insomma, vogliamo analizzare la situazione? Questi poveri ragazzi sono stati abbandonati in una città africana per di più ammalati di Covid, afflitti e impauriti. Qualsiasi genitore non potrebbe tollerare una sorte simile per i propri figli. Poi c'è la storia di Andrea che decide di trascorrere un anno in Inghilterra. La sua famiglia ospitante vive al confine con la Cornovaglia, a 20 miglia da Exeter, dove il ragazzo deve frequentare la scuola. Dunque ecco il primo inconveniente. Ogni giorno Andrea deve percorrere con i mezzi circa tre ore a spese dei suoi genitori per arrivare a scuola e poi a casa. Genitori che, non dimentichiamo, hanno già pagato parecchio per fargli sostenere questa esperienza al college. Appena arriva in famiglia Andrea trova una situazione abbastanza complicata. Deve dividere la camera con un ragazzo tedesco, ma la stanza è troppo piccola. Assolutamente inadatta per ospitare due inquilini. Non c'è nemmeno un armadio. Andrea è costretto a tenere i suoi vestiti un po' per terra e un po' in valigia. Non dispongono neanche di uno scrittoio, quindi Andrea fa i compiti in cucina mentre il ragazzo tedesco studia direttamente per terra. Inoltre non vengono coinvolti in nessuna attività della famiglia, mentre la partecipazione alle attività familiari costituirebbe uno dei presupposti del programma scolastico. I ragazzi ospiti in aggiunta sono invitati a provvedere autonomamente alle loro esigenze alimentari. Devono farsi la spesa e cucinare da soli nonostante la famiglia di Andrea abbia pagato una cifra consistente affinché fosse la famiglia ospitante a soddisfare questi bisogni. Tra l'altro Andrea e il ragazzo tedesco mangiano in cucina mentre la famiglia ospitante si accomoda nella sala da pranzo. Andrea è un ragazzo di 16 anni, costretto a pensare al proprio nutrimento da solo, quindi a volte salta i pasti o si arrangia mangiando male. Ora il giovane aveva una corporatura importante, ma a causa di questo stile alimentare dimagrisce di quasi 20 chili in appena 4 mesi. Ragazzi parliamo seriamente, 20 chili in 4 mesi sono tantissimi, tantissimi, è troppo peso nell'arco di troppo poco tempo. Andrea però non racconta del disagio ai genitori che effettivamente si accorgono delle sue condizioni soltanto quando vanno a prenderla all'aeroporto in occasione delle vacanze di Natale. Quando Andrea sbarca e saluta i familiari con la mano, loro non lo riconoscono per quanto è dimagrito. Quindi io mi chiedo, è legale trattare un minore in questo modo? È legale prelevare cifre sostanziose dai genitori, promettendo una fantastica esperienza all'estero per il figlio, per poi restituirglielo denutrito dopo appena 4 mesi? Ma ora arriviamo alla storia che mi ha lasciata senza parole più di ogni altra. Un ragazzo di 16 anni che chiameremo Giuseppe perché il suo nome non è stato reso pubblico è partito con EF per gli Stati Uniti e per un soffio non è finito nelle mani di un predatore intimo. È il 2019 e prima di partire Giuseppe viene contattato dal referente locale EF, un uomo di nome Tommy Botwright. Tommy introduce a Giuseppe la famiglia ospitante e gli dà qualche dritta su come relazionarsi in occasione del primo incontro. Giuseppe racconta che poi Tommy inizia a mandargli messaggi con un tono più confidenziale, il fine è quello di tastare il terreno per estendere la linea di confine delle sue battute, che peggiorano, diventando sempre più esplicite. Tommy scrive a Giuseppe Vieni qua a casa, facciamo i pigiama party con gli altri studenti, ci guardiamo un film, il tipo di film che piace a me. Per intenderci, il genere di film che Tommy vuole vedere insieme agli studenti è chiaramente vietato ai minori, spinto. Più in là Tommy lo rivela a Giuseppe senza giri di parole, sottolinea che lui, senza guardare questi film, non riesce a stare. Giuseppe cerca di sviare, non ne vuole parlare, anche se tante battute le comprende in un secondo momento, perché all'inizio il suo livello di conoscenza della lingua inglese è basso. Intuisce che quei messaggi contengono battute sconce, ma non riesce a determinare l'entità della situazione. Insomma, il sogno di Giuseppe resta quello di partire, di fare un'esperienza in America, quindi chiude un occhio su questo approccio, non dandogli il giusto peso. A giugno alloggia in una famiglia ospitante degli Stati Uniti e il suo referente, E.F., lo invita più volte a cena a casa sua. Tommy organizza delle serate con i cinque studenti sottoposti al suo controllo. Offre ai ragazzi dell'alcol, fa battute audaci e sboccate, propone pure agli studenti di farsi fare la ceretta, sottolineando che i suoi vecchi allievi se la facevano passare in tutto il corpo. Giuseppe si rifiuta di guardare quei film con Tommy, ma altri studenti invece accettano. Questi ragazzi spiegano a Giuseppe che Tommy mette a loro disposizione in una stanza dove possono fare ciò che vogliono, per poi guardare i film. Addirittura due allievi del gruppo abitano direttamente a casa di Tommy. Anche in Giuseppe si affaccia a quel malessere accusato dagli altri ragazzi di cui stiamo ricostruendo le testimonianze. Ci sono problemi con la famiglia ospitante per le scarse condizioni di igiene in casa. In autunno, con il freddo alle porte, i topi entrano nell'abitazione, ne viene trovato uno putrefatto dietro un fornello o si notano buste del pane mangiucchiate dai ratti che rimangono lì, come se fosse normale ospitare anche loro. Giuseppe, per di più, non è ben visto dal padre ospitante con cui ha discussioni sempre più accese. L'uomo gli dice senza mezzi termini che si è stufato di lui e che non lo vuole più vedere. Giuseppe deve prendere le sue cose e tornare in Italia. La mamma ospitante dice a Giuseppe di andare a casa di amici perché non si sente sicura di averlo lì e chiama un driver di Uber. Azione che va contro il regolamento di IEF, i cui studenti non possono prendere nemmeno i taxi. Giuseppe, prima di riuscire ad andarsene, si ritrova coinvolto nella crisi della coppia. La mamma ospitante chiede il divorzio dicendo al marito che non lo sopporta più. Non le piace, come si relaziona con le persone, è poco sensibile. E a questo punto Giuseppe si sente in colpa perché sa che i due stanno litigando a causa della sua presenza. Non regge il clima di tensione che ha legge in quella casa e quindi prende la decisione di cambiare famiglia. Il ragazzo va a stare da una famiglia messicana aderente al programma EF, ma anche qui la convivenza è difficile. E gli tocca dormire sul divano. Se vuole rimanere, deve comprare un letto e una scrivania con i suoi soldi. Così gli dicono i nuovi ospitanti. Giuseppe, ovviamente, si rifiuta e contatta il suo referente, Tommy, chiedendogli di parlare. Tommy però gli risponde che quella sera non ha tempo da dedicargli perché si trova in una brutta situazione, una situazione problematica. Si sarebbero sentiti il giorno seguente. Il giorno dopo, mentre Giuseppe è a scuola, arriva la polizia che vuole interrogarlo. Le domande a lui rivolte riguardano proprio Tommy. Gli agenti gli chiedono come si relazionava lui, se avesse mai fatto battute strane e se per caso gli avesse mai parlato della sua doccia. Ebbene, a quanto pare Tommy proponeva agli studenti di fare una doccia insieme. Quando l'interrogatorio giunge al termine, Giuseppe può tornare a seguire le lezioni normalmente. Il giorno successivo viene pubblicato un articolo in cui si legge che Tommy è indagato per molestie e violenze intime. Uno studente ospite a casa sua ha scoperto una telecamera piazzata in bagno e lo ha denunciato. La polizia ha trovato nell'abitazione molti video di ragazzi filmati senza vestiti nel bagno. Tommy verrà condannato a 27 anni di carcere e Giuseppe è stato molto fortunato, si è salvato perché non abitava con lui. Poi, in questo percorso di denuncia contro l'Accademia, si fanno avanti anche due ex dipendenti EF. Raccontano che per chiari scopi promozionali il college ricorre a pubblicità colorate, rivolte a un pubblico giovane e si presenta con immagini che esprimono felicità, ma di felice in EF c'è ben poco. A queste due dipendenti veniva richiesto di concentrarsi soltanto su ciò che era strettamente collegato alle vendite, cioè al tornaconto economico dell'EF, tralasciando il resto, considerato una perdita di tempo. L'amministrazione di EF stila delle tabelle su tutto il personale, riportando quanti contratti al mese vengono chiusi, e se un dipendente finisce in fonda la lista perché il suo apporto è minore, viene escluso dalle attività quotidiane. Una delle due dipendenti dichiara che aveva sempre cercato di dare più risalto alla qualità, ricevendo in cambio incomprensione e lettere di richiamo. La notte non riusciva più a dormire serena, tormentata da problemi di ansia che tuttora si porta dietro. Le lamentele che provengono da chi si è affidato al college vertono sempre sulle stesse problematiche. Studenti collocati presso famiglie non idonee, a contatto con uomini violenti o donne alcolizzate, destinati a casi inadatte, dagli spazi ristretti e sporche, soggetti a un'alimentazione altrettanto inadeguata, irregolare. Le dipendenti dell'accademia sono obbligate a dire ai genitori di aver cresciuto dei figli viziati. Dovevano essere loro a cambiare registro, altrimenti avrebbero previsto un rientro in Italia anticipato per i ragazzi. Un team di pochi addetti non può di certo gestire tutti i casi di lamentele, anche gravi, provenienti da decine di migliaia di clienti insoddisfatti. E' proprio per questo motivo che EF si concentra sul vendere un'immagine del proprio operato sempre migliore e sul censurare le opinioni negative espresse sui social media. Concludo questo video facendo una riflessione, voi fatemi sapere che cosa ne pensate. Oggi sono tanti i giovani intraprendenti che vogliono fare delle esperienze all'estero come quella che propone l'AEF Academy. Perché? Grazie a un'opportunità del genere possono imparare a parlare fluentemente inglese e sperare di trovare un buon lavoro più facilmente. Ma quale insegnamento possono aver tratto i ragazzi coinvolti in queste situazioni che definirei spesso al limite? Adolescenti che nei momenti di seria difficoltà non ricevono alcun aiuto, bensì vengono abbandonati a loro stessi. Come possono impegnarsi nello studio? Dove dovrebbero trovare la serenità per farlo? Come potrebbero sentirsi a loro agio e al sicuro se la loro esperienza all'estero, quella siglata EF e pagata profumatamente dai genitori, è costellata di imprevisti e minacce? Le storie di questi ragazzi adolescenti vanno diffuse, meritano ascolto e devono smuovere un forte intento di protezione nei loro confronti perché appartengono a tutti. Ognuno di loro potrebbe essere un nostro fratello, un nostro amico, un nostro cugino, un nostro figlio, un nostro nipote, insomma qualcuno che amiamo che viene trattato in una maniera ingannevole, ben lontana dall'illusoria aura brillante che la avvolgeva dall'esterno. Sono giovani innocenti ma pieni di sogni e coraggio. La verità è che sulle loro ispirazioni il college fa leva per attrarli e i ragazzi prima di partire non immaginano di doversi scontrare con una realtà fredda, venale e spesso ostile. Qualcuno è stato messo in condizione di forte disagio, qualcun altro ha perso peso in maniera malsana, qualcun altro ancora ha subito minacce o è stato importunato. E poi c'è Claudio che nell'accademia ha detto addio alla sua vita. Vorrei spendere le mie ultime parole proprio su di lui. Per come sono andate le cose è chiaro che Claudio stesse male in quel periodo. Tutti noi abbiamo un mondo interiore che è intimo, dunque non possiamo pretendere di sapere cosa stesse provando Claudio. Non è una follia ipotizzare che un ragazzo sensibile, in condizione di fragilità o di ansia, non riesca a reggere quella situazione di isolamento scandisa dall'indifferenza. Io credo che per impedire il suo crollo sarebbe stata sufficiente un po' di cura in più, riservargli qualche visita, evitare di dimenticarsi di sfamarlo e soprattutto controllare come stesse. Tutto questo non è stato fatto. Dunque per quanto mi riguarda, Claudio è venuto a mancare a causa della non curanza della scuola. Aggiungo che non credo sia opportuno fare commenti come, se fosse rimasto a battipaglia tutto questo non sarebbe successo. Faccio questo esempio mica a caso, perché un commento del genere appare ancora sotto il mio video precedente. E lo trovo davvero molto poco empatico. Un ragazzo non ha diritto di inseguire i suoi sogni. A chi ha fatto danno, Claudio? Perché si vuole sempre dare la colpa alla vittima? Neanche in questi casi riusciamo ad attribuire la colpa a chi se la merita? È davvero triste. Aprite le vostre menti, vi prego. Io stessa conosco tantissime persone che hanno fatto delle esperienze simili all'estero, spinte da una comprensibile voglia di studiare una lingua che, ripeto, sottolineo, oggi è fondamentale conoscere per cercare di conquistarsi il proprio spazio nel mondo del lavoro o per entrare in contatto con culture diverse. Questo significa voler essere cittadini del mondo, amarlo nelle sue diversità, aprirsi alla scoperta degli altri e anche di se stessi, con fiducia e soprattutto con coraggio. Mi spiegate cosa c'è di sbagliato in tutto questo? Commenti come quello citato, per quanto mi riguarda, lasciano il tempo che trovano. Credo sia il caso di rianalizzare la questione e imputare la responsabilità a chi di dovere, senza puntare il dito contro Claudio. È sbagliato giudicare lui e tutti gli altri ragazzi che sono capitati presso famiglie disastrose durante il loro viaggio studio all'estero. La colpa non va scaricata sui ragazzi, ma attribuita all'Accademia AF per come ha selezionato le famiglie ospitanti e gestito le situazioni di emergenza o gli imprevisti, espulsioni comprese. Questo è ciò che penso di questo caso. Vi dico con onestà che mi ha colpito tantissimo. L'ho seguito fin dall'inizio e mi aspettavo che arrivassero delle novità. Avevo proprio la sensazione che anche altre persone avrebbero parlato delle proprie esperienze al college, a dir poco problematiche. Ai tutti i genitori posso soltanto consigliare di fare attenzione ai soggetti o alle realtà a cui affidano i propri figli. Le informazioni da raccogliere non sono mai abbastanza, ma almeno internet è un valido aiuto. Purtroppo la AF riusciva a censurare il suo lato oscuro, ma non tutte le scuole si muovono in questo modo o gestiscono così la propria attività. Prima di aderire ai percorsi proposti, chiedete anche a ex studenti come si sono trovati nel college in questione. Per il resto, la mia speranza è che ogni circostanza di pericolo per questi giovani venga scongiurata e che la famiglia di Claudio ottenga giustizia. Io ho finito di parlare in questo caso, penso che abbiate ben chiaro in testa quale sia la mia opinione e ora voglio sapere qual è la vostra di opinione. Come sempre ci becchiamo nei commenti. Io nel frattempo mi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facete nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!